La ricerca ha dimostrato come le potenzialità dei nuovi sistemi di illuminazione sono ancora parzialmente sfruttate dalle imprese della provincia di Varese. Infatti se è vero che larga parte delle imprese conosce e ha utilizzato i sistemi LED per l'illuminazione, di fatto poi gran parte delle imprese non utilizza invece i sistemi più avanzati che consentono da un lato di modulare in maniera automatica e automatizzata i sistemi di illuminazione con la presenza di luce naturale o per diversi ambienti aziendali, dall'altro ancor meno utilizza i sistemi più avanzati che consentono di monitorare i consumi da remoto piuttosto che utilizzare gli apparecchi di illuminazione per rilevare le presenze all'interno degli ambienti. Quindi c'è una bassa conoscenza, una bassa consapevolezza delle novità che il settore dell'illuminazione può offrire. Dall'altro è dimostrato che se sono ben noti i benefici in termini di risparmio energetico, dall'altro non lo sono assolutamente i benefici cosiddetti indiretti, quindi l'aumento di produttività, la diminuzione di malattie e di infortuni, l'aumento di concentrazione da parte degli operatori all'interno dei locali aziendali. Grazie a tutti.